Eccoci qua, cari amici, la malattia e il coronavirus per me è iniziata all'inizio di marzo e adesso questo è il foglio, questo che cerco di inquadrarvi, dell'ASL Roma 1 del Dipartimento di Prevenzione che dopo due tamponi negativi, come la procedura e il protocollo, mi ha liberato perché si comunica che il periodo di sorveglianza sanitaria e quarantena a cui è sottoposto è terminata il 28 marzo, da questo momento in cui sono libero, insomma un po' agli arresti domiciliari, libero però di andare per la prima volta in un mese quasi a fare la spesa da solo, quindi io ovviamente due o tre cose ve le voglio dire e poi dopo starò zitto riguardo a questo coronavirus, per me non è stata una passeggiata, è passata dopo tanto tempo, però il primo pensiero ovviamente da uno che ce l'ha fatta è a quelle 10.000-11.000 famiglie che invece hanno un loro caro, un parente, non è necessario giovane, anziano, medio, un essere umano che non ce l'ha fatta perché si è beccata la stessa mia malattia ma per tanti motivi, a differenza mia, sono morti. Però questo primo riconoscimento che noi dobbiamo avere nei confronti alle morti dei 3.500 che sono oggi in terapia intensiva e forse altre tanti purtroppo che ci saranno nei prossimi mesi, insomma in questo numero incredibile di persone che non ce l'ha fatta, essendosi preso una malattia che per me è finita fortunatamente bene, per altre fu un e definita drammaticamente. Però per la prima vera considerazione che bisogna fare è che oltre al virus, che è una bruttissima bestia, bisogna veramente sconfiggere il panico, bisogna sconfiggere la nostra paura. La paura non aiuta a combattere il virus né quando ce l'hai durante la malattia né quando senti i primi sintomi in cui ti aggrappi a qualsiasi cosa per capire, per cercare di capire che cosa hai, perché i medici non possono stare appresso a tutti e gli ospedali non devono accogliere tutti come non dovevano accogliere me, però la paura è quella tremenda sensazione che mi sembra che si sia diffondendo nella nostra società, per cui dei ragazzi di 20 anni temono il virus e statisticamente devono temerlo non in maniera così elevata, dovrebbero temere di più ad andare brilli in macchina e tantissima gente ha paura di questa malattia e accetta limitazioni alla propria libertà che oggi sono sacrosante ma domani potrebbero diventare prevaricatrici. Vedete è tremendo quello che sto dicendo perché per uno che ce l'ha fatta ci sono tanti che non ce l'hanno fatta, diciamo per tanti che ce l'hanno fatta c'è qualcuno che non ce l'ha fatta, questa è la proporzione giusta, però se io un invito posso fare e dobbiamo fare anche nel rispetto per chi non c'è più in questo momento è pensare che questa malattia si sconfigge, si sconfigge per l'80% dei casi addirittura senza ospedale e che il virus peggiore nella società è farsi paralizzare da questa malattia. La malattia è tremenda ma la nostra paralisi può anche essere peggiore anche nel rispetto di chi non ce l'ha fatta, secondo me è modestissimo e come possiamo dire avviso, mettiamola così. Ciao